Il libro del marketing scritto da Enzo Dalverne, caro nostro amico, grande fotografo. Allora, ho letto questo libro, io vi sconsiglio di compilare se non volete diventare fotografo, perché qua svela tantissimi segreti, però il problema più grosso è, se leggete vi renderete conto quanto è difficile diventare fotografo come professionista, cioè far diventare mestiere come fotografia e non è per niente facile. Sicuro che voi siete bravissimi a fotografare, lo so, ma non basta essere bravo, non basta essere bravo. Qui svela non tutti i segreti, però vi farà rendere conto quanto non facile. Bene, è un libro che io vi sconsiglio.